Arte Concast News, Banksy nuovo record da Sotheby's. Nel 2018 ha fatto il giro del pianeta la notizia dell'opera autodistrutta in diretta da Banksy a seguito della vendita da Sotheby's. In quell'occasione a Londra, Girl with Balloon dello street artist era stata fatta quasi completamente a pezzetti grazie a un marchigegno inserito nella cornice dello stesso artista. La collezionista che aveva acquistato l'opera senza danni per 1,4 milioni sterline non ce l'ha pensato due volte e l'ha tenuta anche con il nuovo titolo Love is in the Bean. Appena tre anni dopo niente scherzi o intoppi durante la nuova asta sempre da Sotheby's ma è la frenesia del mercato a regalare un nuovo record battuti per oltre 20 milioni di sterline per l'opera che sembra aver trovato posto in una casa di un collezionista asiatico e ancora una volta il mercato è stato maxisato. Grazie.